Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 5, il DLC Hot Wheels, siamo con la nuova Hot Wheels che avevamo trovato, che ci aveva dato, avevamo vinto questa nuova auto che però è di classe B, quindi non so se... mo la testiamo un attimino però, eh sentite un po', è un po' così, è un po' così, dobbiamo partecipare a questa nuova gara che però è di classe A, quindi eventualmente sprint estremo, va bene, allora potremmo sia utilizzare un'auto normale, sia eventualmente andare a prendere l'altra Hot Wheels, vogliamo provare a fare una cosa un po' particolare, utilizzare un'auto normale in ambito Hot Wheels, giusto per provare, giusto per provare, magari andiamo con la Ford Escort Rally Style, poi naturalmente torniamo con le nostre Hot Wheels, sia chiaro, però qualche test lo vorrei anche fare insieme a voi, voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale, date un'occhiatina anche alle altre serie in corso, e... avviamo la gara, eh comunque ci adatta anche le altre auto naturalmente alla nostra categoria, dobbiamo testare una gara su questi tracciati anche con auto, guarda là sopra, comunque sto DLC mi sta piacendo parecchio, eh, il parco Hot Wheels è spaventosamente bello, è veramente spettacolare, attenzione qui Sportellation, oh, piano, attenzione qui al furbone, tiè, di fino, di fino, poi nel mentre poi sbloccheremo anche altre, altre auto, che andremo a testare, al momento non possiamo usare auto di classe superiore all'A, attenzione, all'A di attenzione, dritti, ok, no, il parco tematico è fatto veramente da Dio, bello, 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 poi qualche test eventualmente con qualche microcar modificata in modo clamoroso, al momento non l'ho ancora fatto perché, come detto, possiamo utilizzare ed entrare nel parco solo con auto della classe massima, tra virgolette, della licenza che abbiamo qui, nella zona Hot Wheels, che è appunto classe A, insomma noi, quei piccoli bolidini che facciamo, classe A, a una ruota, classe A è troppo barbona, quindi li, li testeremo quando avremo la possibilità di utilizzarli, al momento siamo ancora troppo barboni, oppela, cerchiamo però di rimanere vivi, barboni sì, ma vivi meglio, guardali com'è, piano, 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 dove devo andare qua, stiamo affondando, ma non è vero, ma con quale ignobile sprint ci ha bruciato, oh, piano, eh niente, sì, ma com'è che queste Ford Escort vanno molto più della nostra, ma scusi, guardala come guadano, guarda come guadano, uh, piano, 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 eh, siamo pure a fine gara, quindi mi sa che non li ripiamo manco più questi, oh, attenzione, no, non lo ripiamo, eh, niente signori, c'è qualcuno, porco due, che ha preso l'altra, l'altra strada, eh niente, questo è da rifà, maledizione, ci hanno fregato, eh no, secondi, no, primi o, ok, rifatta con la Urus, che guada meglio, sempre tirata la gara, eh, sempre tirata, che l'altra volta ci aveva fatto aumentare la difficoltà, che vincevamo facile, ma mica tanto, eh, comunque con la Urus, come detto, che guada con più cattiveria, siamo riusciti a, da caparrarci l'oro, anche perché, come detto, per andare avanti nella storia, dobbiamo per forza di cose andare a vincere tutte le gare presenti, cento, 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 basta con ste cacate però, eh, ma che cos'è, ma è possibile che queste ruote della fortuna, per noi sono sempre così punitive, allora, vediamo un attimo, qua c'è, sto baracchino, che fanno, don't, oh, piano, piano, vabbè, poi ci rimettiamo una Hot Wheels però, perché qua, anche se questa Urus ci sta, ah no, è questo come un becco da qua, pensavo ci fosse un salto, no, no, credo che il salto sia da qualche altra parte, vabbè, niente, eh, allora, 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 dobbiamo completare naturalmente tutte queste garette qui, quindi c'è anche questa qui, Hot Wheels, una storia, il serpente e la mangusta, mangustalo, mangustalo, mi teletrasporto perché non ci fanno i giri, allora, allora, è qua, andrei, allora, il serpente e la mangusta, questa è la storia delle Hot Wheels, però questa è la parte più figa, quindi, assolutamente interessatissimo, vediamo, è bellissimo, di questi fantomatici snake e mongus, dico bene, te lo spiego lungo il tragitto, tu prendi l'auto gialla, tu prendi l'auto gialla, io prendo quella blu, è gialla, ah, sì, ok, un po' senape, un po' cagarella, bellissima, immagino tu abbia sentito parlare, ah no, scusa, ho sbagliato, Don Prudhomme e Tom McEwen, giusto? Negli anni 70 erano due piloti della NHRA, esperti in gare di accelerazione, tra i quali si instaurò un'amichevole rivalità, guarda che spettacolo gli interni pure, Don fu quattro volte campione della National Hot Road Association, entrando perfino nella Motorsport Hall of Fame, il suo soprannome era The Snake, Tom McEwen era un altro pilota di gare d'accelerazione, pensò che avere degli sponsor sarebbe stato utile, così si rivolse a un'azienda di giocattoli, la Mattel. Ah, ecco perché quello ha rallentato, stronzo, cioè quella, e lì, avvisami, i due si affrontarono diverse volte agli US Nationals, e ciò diede vita a un'amichevole rivalità, Mattel propose di realizzare una serie di giocattoli, basati sulla rivalità tra Snake e Mongoose. La sponsorizzazione di Hot Wheels portò alla creazione di prodotti di ogni genere, ispirati alle gare d'accelerazione. Ah, ok. Eh, no, volevo sentire tutta la storia, siccome le altre volte ce la siamo giocata. Il marchio Hot Wheels produceva varie poverine di macchine. Parte ogni tot? Dai, signora, sono set come il Roadrunner e il Big Belter, che lanciavano le auto con l'ausilio di una fascia elastica. Il Big Belter era persino in grado di rilevare l'inizio dei salti. Mica male, vero? La Hot Wheels realizzò vari prodotti a tema drag racing. Le Heavyweight erano più veloci sulle cadute gravitazionali. Le Seasler, con i loro piccoli motori alimentati a batteria, non avevano bisogno di un lanciatore. Se ne son ventate le cose, ne hanno fatte. È bello perché molte cose io non le conosco onestamente. Un nuovo designer, Paul Tem, iniziò a disegnare progetti a sei ruote, come la Six Shooter e la Open Fire. So che non è realistico, ma è incredibile. Sei ruote? Sono davvero tante. Penso alla Tyrrell. Scusa, eh. È più realistico di quanto tu possa immaginare. Mamma mia, senti che è da dentro. Andiamo a Istinto, segui le linee, per quello ci sta nei linei. C'era anche il Collector's Club Kit di Hot Wheels, che permetteva di ottenere Boss Hoss, Heavy Heavy o King Kuda. Tutte con cofano aperto, grandi compressori e verniciature argentate. Cavolo, se solo potessi tornare indietro nel tempo. Eh, sai quanto valgono. Ma questa è bellissima, è bellissima. Come auto normale. Non solo come Hot Wheels. Ogni tanto, oh, una guidata, eh niente. Eh, stava a dire, ogni tanto una guidata dall'interno l'andrei a fare. Certo, con queste piste, effettivamente, non è che sia fattibilissimo. Però, questa era troppo bella all'interno di quel motorone. Va bene, va bene. Le auto del set originale Snake vs Mongoose erano alimentate da elastici. Queste, eh, non lo sono. Che ne dici di provarle insieme in una gara d'accelerazione? Vai. Forza, Ely. Andiamo. Se mi ricordi come funzionano le gare d'accelerazione, che non mi ricordo, credo il cambio. Vediamo. Vediamo se quella Snake ha mordente. Ah no, va. Ok. Vabbè, mo facciamo così. Beh, gara d'accelerazione su quattro chilometri e mezzo, non è proprio d'accelerazione, a sprint race. Bellissimo, comunque, il racconto della storia delle Hot Wheels, eh. Bello, bello, bello. Così come sono belle ste macchine. le masche al car sono sempre in altro basso, eh. C'è poco da fare. In ambito Hot Wheels ce ne sono di stranissime le masche. Ce provo. Ah, poi se vi interessa, vi faccio vedere un paio di... Io, onestamente, da ragazzetto non è che c'evole Hot Wheels su qualcosa quella. Qualche poi effettivamente l'ho... Provate, anche recentemente quando ho giocato a Hot Wheels che è arrivato la Limited con la macchinina della Hot Wheels poi altre due con la pista poi ne ho prese un altro paio fighissime. Cioè, fighissime per me magari, valgono una ceppa ma erano fighe. Quella forma dei panini e cose. E vanno veramente forti, eh. Oh, bellissima. Perché una volta noi facevamo le gare con le macchinine quando eravamo piccolini però non con le Hot Wheels quelle normali e... Vedi, a saperlo con le Hot Wheels sarebbe vinto molto di più, eh. Le piste fatte col gessetto sull'asfalto a terra e poi spingevi le macchine, comunque, scusa, ce l'ha regalata la macchina fammi sapere collezione auto no, quindi non credo che ce l'abbia regalata vediamo aspetta perché sta ci sta dando ancora dei bonus riscatta ok ebbè allora la riprod ah no la riprod è quella no pensavo fosse una di ste due che abbiamo usato quella che ci ha dato è meno bella possiamo dirlo senza offese allora che altro dobbiamo fare ottiene almeno una stella in tutte e cinque le acrobazie di classe A e vinci tutte e quattro le gare di classe A vabbè facciamo quelle ottieni tre abilità giro nel loop questo poi lo attiviamo dopo e allora quella lì la possiamo provare allora cambia auto spero che sia di classe ah yes perfetto riprod 2012 hot wheels leggendaria per ho letto un 50 di lato 50esimo anniversario 2012 si nel 2012 è possibile è possibile non come ho detto allora andiamo a vedere a questo punto cosa abbiamo da fare qui nei paraggi nei paraggi mi sa che c'è allora quelle le abbiamo fatte qua sopra abbiamo fatto qui ok aspetta questa non ho capito se l'avevamo già fatta o no questa non l'avevamo fatta 321 km orari aspetta per arrivare a 321 km orari dobbiamo minimo partire da qua immagino no è dritto per dritto almeno una stella dobbiamo prendere spingila 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 siamo contro vento però va bene credo forse funzionano in entrambe le direzioni eh non ci arriviamo con questa 300 però ancora 15 km per una stella eh devo prendere un'altra macchina vabbè per farlo per forza di cose se puede non ci arriva questa siamo arrivati al limitatore allora facciamo così filtro mettimene una di classe A che sono le uniche che posso andare ad utilizzare e andiamo questa qua di velocità quanto aveva 5.4 oddio effettivamente è lenta già con questa ce la dovremmo fare vabbè per andare sul sicuro ci sta l'importante è prendere una stelletta aspetta che faccio manovra questa mi piaceva non so se da sto lato ci riusciamo ma sai che il lato ventilatore era meglio però andiamo giusti ma noi qua eravamo passati no così si 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 ok eh dobbiamo fare dall'altro lato perchè qua non riusciamo a raggiungere di là ci stanno i ventilatori vedi qua spingono madonna se spingono madonna 420 facciamo inversione qui vai ok pensa qua la bugatti a quanto te la spingono eh ci vogliono per forza i ventilatori perchè se no vai vai stiamo in salita però vai ok dai per frenare ci vuole un pochino eh allora prendiamo il caschetto rosa riprendiamoci la l'altra auto eh si quando possiamo usiamo comunque le hot wheels signori che ci sta come cosa e ci andiamo a fare le gare rimanenti non so se riusciamo a completare tutto ci proviamo se riusciamo magari a fare un altro livellino ci potrebbe anche stare allora questa è fatta questo lato l'avevamo completato queste si quindi ci manca questa qui ok e mi sembrava stava a vedere in giro ne vedevo di gare una sola ce ne manca di queste qua vai passo del vulcano andiamo con questa che spero ci possa dare delle soddisfazioni la rip road belle le linee per l'anniversario poi lo stile della macchina come detto a me non garba tantissimo come detto le muscle lato hot wheels sono in realtà in muscle car mi piacciono in generale però all'interno delle hot wheels che ci sono muscle car e auto un po' più particolari molto particolari in quel caso vai di muscle car se devo scegliere muscle car o quelle a forma di cibo poi per carità non le conosco tutte ci saranno sicuramente delle robe spaventosamente belle però i furgoncini pure e mi ricordo pure dal gioco hot wheels per dire una stronzata ma pure quello del camion dell'immondizia era una figata era bellissimo e ma questa anche a mina però e uno ci può provare ma e questa più di questo non va abbiamo il limitatore dobbiamo sperare che si schiantano male ecco qua beh la verde ci può stare ci può stare mamma mia che figata attenzione ai dossi noi dobbiamo puntare a queste oh merdi e che fa così a tradimento cioè arrivi a cannone in curva e ti butta il ghiaccio e che se fa così e qua o se schiantano la vedo male perché vai vai pure il ghiaccio è fatto benissimo cioè per dire è una figata scusa mi appoggio un attimo vai spingila spingila siamo al 60% di gara dobbiamo recuperare ancora 5 auto anche perché per forza di cose come detto dobbiamo vincere per poter andare avanti quindi ma questi vedi se fanno pure tamponare così hanno la spintarella maledetti mettiamoci scia parola attenzione all'esterno dossini eh questa è proprio lenta però porco due no oh sai che la la macchina che noi tanto ce la prendevamo con lei per la sua bruttezza ma quella da surf mi sa che è la migliore eh per forza di cose da rifare con quella madonna signori questa tanto brutta quanto efficace stessa gara stessa difficoltà sverniciati male bravissima bravissima e questa surf amica vabbè magari conoscevo pure un po' la pista ma a posto così a posto così soprattutto questa ha una velocità di punta molto più ampia rispetto all'altra infatti l'altra uguale ha fatto seconda e quindi qui dove c'erano quei così turbo ci cioè non veniva frenata giustamente va bene meglio di un paio di calzini ci sta ci sta allora 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 adesso dovrebbe esserci rimasto Alejandra dice di voler organizzare un'altra qualificazione continua a conquistare quelle medaglie e presto riceverai un altro invito sto lavorando Allora ottieni tre abilità gira nel loop otwills in due minuti ma qua devo fare un determinato percorso me lo dice lui o è per forza di cose perché se no come famo allora questa qui ottieni tre abilità gira nel loop ok ottieni guidando attraverso i loop otwills in meno di due minuti vabbè penso che ci stanno tre loop e li dobbiamo fare tutti in meno di tre minuti è una parola però adesso il canyon dei giganti fino al calderone vabbè questo lo facciamo dopo e segniamoci dai questo però se mi dice sulla mappa dove devo andare perché è un problema allora un loop sta qua un altro sta qua dove 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 eccolo qua quindi da qui il loop ce l'abbiamo alle spalle quindi se io faccio questo così mi fa fare il giro di là se faccio così è molto più veloce ma poi io devo comunque ritornare qua indietro quindi converrebbe provare a fare poi quest'altro proviamo magari non so se questa sia l'auto adatta ma due minuti vediamo se vabbè qua ci prende il tempo quindi una volta fatto questo loop credo che siano questi loop da fare io questi ho trovato quindi immagino che è due minuti non sono tanti quindi vediamo se parte il tempo ok seguiamo le indicazioni no c'era quest'altro loop marcatra eh si signori stanno qua altri due loop a posto e ho individuato dei loop sbagliati in realtà c'erano questi tanto vicini l'uno all'altro che la pure inversione è avuto e fa l'altro lupino e passa la paura eh così ci se la fa guarda ce ne sta un altro là e buonanotte sì sì lascia fare ora da qua dovrei fare inversione e via a posto non li avevo visti questi perché ci stanno quelle icone lì sotto che ti bloccano la visuale così invece a posto eh la qualificazione 3 è disponibile ho aiutato Ale con la parte logistica ti piacerà perfetto allora andiamo a vedere un'altra cosa perché noi abbiamo anche allora questo riscattiamo la magliettina nella cascata sia attraverso il canyon dei giganti fino al calderone di ghiaccio in meno di 4 minuti allora facciamo una cosa queste ultime due compresa la qualifica la facciamo al prossimo episodio ragazzi voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare il canale spero che questo episodio vi sia piaciuto e spero che questo DLC vi stia piacendo abbiamo ancora ben 3 categorie da fare quindi ce n'è da divertirci ragazzi ci vediamo alla prossima un saluto a tutti da Quel Taleale grazie a tutti Grazie.